Primo tempo un po' nervose, non capisco il motivo, molto premente perché c'è da capire anche l'avversario che era molto chiuso, che cercava di chiudersi tutti gli spazi. Nonostante tutto abbiamo avuto due o tre situazioni che potevamo far male, eravamo poco cattive sotto porta, poi al secondo tempo abbiamo cambiato modo di giocare e da lì abbiamo trovato un bellissimo gol di Loretta, Pullasci, i ragazzi li sono liberati un po' di testa, hanno cominciato a giocare come sanno e abbiamo fatto il secondo gol e poi l'abbiamo gestita bene. Sono felice per loro perché per noi oggi è vero che era l'ultima partita, a me iniziava un altro tipo di campionato perché è vero che i playoff iniziano tra, la Pull Scudetto inizia tra tre settimane, però per noi era molto importante finire bene e per noi questo è un inizio. Ho detto alle ragazze anche che questo per noi non deve essere un punto di arrivo ma deve essere un punto di partenza per il loro percorso di crescita. Nonostante l'orario sono stati veramente bravi, hanno incitato le ragazze e quindi siamo felici di avergli regalato questa vittoria e la Pull Scudetto. Il mio obiettivo personale sicuramente era questo e so che era anche quello della squadra, siamo partite un po' a rallentatore. Oggi tre grandi punti guadagnati per il futuro e continuiamo così e cercheremo di combattere contro tutte le squadre e ci aspetta una grande finale di stagione.